In totale 339 migranti e un cadavere sono stati recuperati in tre distinte operazioni di soccorso in mare. Tra questi 51 donne e 31 minori non accompagnati, altri 51 migranti risultano dispersi. Le condizioni di salute degli ultimi arrivati dal canale di Sicilia non sono ottimali. Alcuni di loro, tra cui donne incinte, sono stati trasportate all'ospedale di Lentini per delle ustioni. Fermati anche tre presunti scafisti dai gommoni partiti tra sabato e domenica. Nelle scorse ore, invece, un altro naufragio ad est di Tripoli. Si stima che a bordo ci fossero 126 persone. Finora, però, sono solo 29 migranti salvati, altri 97 risultano dispersi. Intanto il 2016 si conferma l'anno più letale per i migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo. Una persona ogni 88 muore nella traversata. Un dato in netta crescita rispetto allo scorso anno, dove si contava un morto ogni 269 persone. Pressioni su Bruxelles a partire dal ministro dell'interno Alfano, mentre gli investigatori, grazie alle molte testimonianze raccolte, hanno acquisito elementi sugli organizzatori libici che operano nella tratta di esseri umani a Sabrata. Il prezzo di viaggio, secondo gli sopravvissuti, varia tra i 500 e i 1000 euro, anche se non è garantito l'arrivo. Il prezzo di viaggio, il prezzo di viaggio,